Il Governo è intervenuto con tempestività e chiarezza. Riconosciamo alla Guidi una consapevolezza istituzionale nell'aver immediatamente rassegnato le dimissioni. La mozione di sfiducia del Movimento 5 Stelle è ridicola e fa solamente perdere tempo ai cittadini. Di Maio piuttosto non strumentalizzi il suo ruolo di Vicepresidente della Camera. Gli italiani stanno ancora aspettando spiegazione sul quasi quarto e sul perché per lunghi mesi si è rimasto solamente in silenzio.